Hello ragazzi, saluto a tutti, benvenuti con questa nuova parte su Minecraft Alexa? Ferma Impazzita Bentornati dopo un paio di giorni che sono nel Nether Perché in realtà sto cercando di farmare teste di Wither Skeleton Solo che non riesco a farli spawnare Funziona quella farm, ma non funziona bene Come vedete le uniche che ho recuperato sono queste due che appunto già avevamo Quelle che avevamo trovato completamente a caso, infatti mi fa ridere E niente, oggi siamo qua perché in realtà dobbiamo... Oddio, no, fermi, ne ho un'altra Oh, fermi, 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 raga Ne ho tre Fermi, fermi tutti, possiamo evocare il Wither Allora, qua c'è un po' di schifezze che in realtà dovevo smistare E intanto vi dico quello che andremo a fare oggi Perché come avrete letto dal titolo E come avete visto dall'anteprima Sì, lo so, ragazzi, io lo dico sempre, però è sempre così Quello che andremo a fare oggi sarà una pixel art di Little Nightmares Siamo stati in live e abbiamo completato interamente il primo capitolo Mettendoli i DLC Quindi abbiamo finito tutto Ora, vabbè, si aspetterà il capitolo 2 E vediamo come va... come andrà a finire Per il momento voglio fare questa pixel art Perché appunto è stata una serie importante Come ben saprete le pixel art O tutte le costruzioni che faccio Sono di serie che mi sono piaciute durante il canale Che magari ho portato e sono interessato anche a voi sul canale E Little Nightmares è una di queste Ho cercato su internet Ho trovato una pixel art Che mi piace molto Cioè ci sta molto come... come idea E appunto voglio portarla E... dobbiamo solamente recuperare Molto giallo Perché questa cosa c'entrerà con Six Con la protagonista principale del... La protagonista principale si dice Cioè in teoria la protagonista è già principale Comunque Six E ci andremo a fare di fianco un lumino Che sono quei piccolini Ok, lo sapete, no? Quindi ci servirà molto giallo Molto... vabbè, rosa per fare la faccia E... e comunque le gambe e le braccia E il grigio per il lumino E... dov'è che andiamo a prenderlo? Lana Naturalmente cerchiamo di mischiare un po' tutti i colori Abbiamo anche la concrete qua Che potrebbe servirmi per il giallo Va bene, comunque mi sistemo Recupero un po' di materiali E troviamo un posto dove andare a fare sta... E... sta cosa Non c'ho un cacchio di concrete... bene Allora, ho preso su un po' di roba Ora dobbiamo semplicemente liberare una zona Perché ho deciso che la andremo a fare qua E naturalmente deve venire buio Perché io ci devo mettere sempre tre quarti d'ora Dobbiamo liberare un bello spiazzale E dobbiamo essere sicuri che sia abbastanza buono Come posto, abbastanza grosso Perché poi mi è venuta un'altra idea E pensavo di farci successivamente Quando uscirà Little Nightmares 2 Possiamo aggiungerci di fianco E se tipo... L'idea è come penso io Viene una cosa carina Possiamo aggiungerci di fianco Magari il personaggio di Little Nightmares 2 Che dovrebbe essere in teoria diverso da Six Allora ragazzi, ci siamo Dovreste vedere in teoria La... la schermata da lontano Come al solito E possiamo partire con il progetto Dunque, partiamo a fare Six Vi dico subito che questa cosa Che io sto guardando in questo momento Questa foto Praticamente rappresenta E... Loro... Loro tre... Cioè, in realtà tutti i personaggi di... Di Little Nightmares Solo... Solo che sono tutti separati E io non li voglio separati Quindi molto probabilmente Andremo a fare una cosa Che non faccio mai di solito Ovvero modificare La... la foto Naturalmente io ho preso diversi cosi Ho preso diversi... Diversi blocchi Il problema è che Mi sa che non mi bastano per niente Cioè, sta terracotta rosa Mi sa che finisce male Più che altro perché ragazzi La terracotta è veramente difficile da farmare Cioè, la terracotta ci ho messo Mezz'ora Solo per fare uno stack Di... di rosa Uno stack Sono bloccato Sono bloccato Naturalmente in tutto ciò mi sono dimenticato Le... le barriere Cioè, non le barriere Scusate Le... 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 Transenno Com'è che si chiamano? Quelle cose per fare il... I... i disegni belli Dai Cioè, per... per... Muoversi più liberamente in giro e poi spaccare tutto Avete capito, no? Bene Vediamo se ci va bene con il rosa Più che altro no perché io adesso sto facendo le gambe ma In realtà un pelo di rosa mi serve anche per fare le braccia E successivamente un pezzo di faccia Perché comunque come ben saprete E... e... coso Six ha... ha la testa coperta Quindi non si dovrebbe vedere Ok, allora in teoria le gambe ci sono Ci rimangono 23 pezzi di... di... di cosa rosa E non so se lo riusciamo a fare Ma passiamo all'impermeabile Come vedete io mi sono portato tipo Un sacco di... di blocchi di calcio e struzzo Questo è polvere quindi in... in teoria non posso metterla Che vaghi per i cacchi suoi Ma deve avere una base sotto Io ragazzi sto andando completamente a caso Cioè ci sto guardando adesso ma Tipo... è fatto a pixel il disegno ma non ci capisco niente Ah, per questioni ovvi andiamo a usare Il... il saliscendi automatico Quel cacchi... cacchi si chiama Chiamatelo come volete Ho preso anche la terracotta Giusto per farci qualche dettaglio in realtà Non è che serva così tanto però Dato che ce l'ho A sto punto usiamola Allora qua saliamo ancora di uno Facciamo sempre una fila di lana Oh... c'è gente c'è gente c'è gente Ma perché? Perché sempre quando faccio queste cose Dovete venire a rompere? Andate e vieni via Fuori di qui Fuori di qui Ma han visto? Ma han visto? Dove va quello rimambito? Oh... e che cacchio? Cioè dovete venire a rompere Mentre faccio le cose Ma da dove sono usciti? Da dov'è che arrivano quei cosi Che sponono di continuo Mentre faccio le cose? Basta! Andatevene a casina vostra per favore Grazie Allora uno due e tre Qua ci ho fatto un pezzo per la manica Poi... Poi andiamo a completare Adesso fatemi fare il pezzo centrale Perché è molto ma molto incasinato E io mi sono perso tipo Esattamente qua Ci vanno uno due Poi ci vanno questi blocchi per fare la mano E dovrebbe uscire una cosa del genere Ok qua ci abbiamo una mano Adesso non so se la vedete però Dovrebbe essere una mano Dovrebbe essere una mano Spero che sia una mano Poi vabbè il discorso È sempre uguale ragazzi Più fate le cose in grande Più sono dettagliate Più si capisce che cosa dovrebbe essere Se fate una cosa Magari un po' più piccola Che su Minecraft I blocchi sono quelli Quindi sono quadrati e tutto Poi si capisce quello che è Allora da qua Io mi sono... Io ve l'ho detto raga Io mi sono perso Mi sono perso completamente Sono andato a recuperare un po' di lana Già che ci sono Magari li faccio il pezzo di mano Che gli manca Che non è tanto difficile In realtà È una roba del genere Giusti giusti I blocchi sono stati giusti giusti Perfetto Toglio Vi vado a mettere anche Il bordino Come per dire che È tipo la manica Aiuto Mi fatica Per fare un coso Allora Dovrei aver finito Cioè in teoria da qua Lì gli manca la manica E la andiamo a fare Però tipo la parte centrale Dovrebbe aver raggiunto L'altezza massima Togliamo anche questo Perché sennò Sembra un po' esagerato Però dovremmo esserci Qua ci andiamo a fare Il pezzo del Del colletto Chiamiamolo così Che si va a congiungere Perfettamente di qua Oh Oh Piano Piano raga Piano Funziona Perché adesso Ci lancia Bravissimo lui Bravissimo Dobbiamo cercare di congiungerci Di ricongiungerci In quel posto Con Il braccio Quindi qua praticamente Salendo Piano piano Andiamo a Ricongiungerci Ci mettiamo anche delle sfumature Bianche Che in realtà non sono bianche No questo è sbagliato blocco Giusto per Ok Ci siamo Fatemi vedere come è venuto il tutto Ci sta Ci può stare C'è quel giallo da terracotta Che è tipo Mezzo marrone E non mi piace Forse dovrei farlo Con un altro tipo di giallo Non so quale Però dobbiamo trovarne un altro Però ci siamo Ora Semplicemente E senza semplicemente Perché non è semplice per un cacchio Dobbiamo andare a fargli Il Il coso Il Il coso esterno dai L'impermeabile Chiamatelo Cacchio vi pare Si chiama così Vabbè Cioè Vedrò da qua Mi sembra tipo La cosa più difficile del mondo Che cacchio di roba Gli ha messo In testa Tutto a salire Tutto a salire Tutto a salire Dovrebbe venire Praticamente Un buco centrale Piccolino E qua Poi va tutto riempito di roba Ci siamo Ci siamo quasi Le misure sono sbagliatissime Vi assicuro che Io qua sto andando tipo a casaccio Ma sono sbagliatissime Lo vedo Adesso cerchiamo di ricongiungerci Eh va bene C'è una roba del genere E poi In realtà adesso andrebbe riempito Tutto Di giallo E di E di Di niente Poi la faccia Gliela facciamo Gliela facciamo Ok ragazzi Eccomi Sono passato un paio di Di ore Questo perché sono andato A farmare Un po' di Di questi blocchi Di queste Di queste terrecotte Tutto per fargli una capoccia Per fargli un testo Ok che mi è buio In più ho riflettuto Stavo guardando Che tipo Siamo qua da un sacco di tempo E quindi molto probabilmente Oggi Andremo a fare solo Questo coso Solo six Infatti adesso vado a chiudere Tutto con il nero Perché tanto Praticamente questa è la parte In penumbra Non so se si è mai vista La faccia di Di six O se appunto È sempre stata Tipo nella penumbra O nella roba del genere Ah cacchio Ma la mia manca tutto il giallo Da mettere Non finisce più sta roba Aiuto Giallo 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 ovunque Giallo ovunque Giallo ovunque Non ne posso più Basta giallo C'ho le pecore gialle Che sono tipo morte In realtà Little nightmares Sono quelli Sono quelli che hanno le pecore Quando vedono che devo passare A rasarle Ci dobbiamo essere raga Forse Aiuto Forse ci siamo Tra l'altro non so se avete notato Ma ho fatto un cambiamento Nel colore E ho messo Che praticamente Al posto del Oddio Mi ammazza Aiuto Al posto del giallo Terracotta Che era un po' brutto Era un po' troppo scuro Ci ho messo Quell'altro Che adesso Non ho Vabbè L'ho finito Ed è il giallo Del calcestruzzo Ecco Allora Com'è venuto? Fammi vedere un po' più da lontano Allora Ragazzi Ci sono due cose Che guardo E sono da modificare La faccia È la prima cosa Che mi viene in mente Da guardare Proprio la faccia Fa schifo Cioè Quel rosa lì Con il nero Non fa un cacchio Allora Perché quando l'immagine Gli mette l'ombra Io dovrei trovare Un blocco Che faccia da ombra Innanzitutto dovrei anche Un po' ingrandirla Secondo dovrei trovare Un blocco Che faccia da ombra Che sia tipo Un rosa un po' più scuro Poi teoricamente Altra cosa Che mi piacerebbe Metterli Sono due o tre effetti Sempre con quel giallo polvere E terracotta Che non è più terracotta E calcestruzzo Però da metterli a giro Perché Danno effetto Sono buoni Quindi andrebbero un po' più Da distribuire Ecco Per il resto Mi sembra buono Proporzioni generali Sono buone In ogni caso Io ragazzi Per il momento Vi saluto qua Non è finito al 100% Perché volevo fare anche altro Però Sono qua da quasi due ore E non c'ho voglia Puoi durare troppo il video E non mi piace come cosa Per adesso Facciamo Six Poi magari un giorno Ci andremo a fare anche Il nomino di fianco E tutto Per il momento Io termino quale episodio Noi ci vediamo Alla prossima parte Sempre su Minecraft Qui da Landolf è tutto Ciao a tutti Noi ci vediamo Ciao a tutti